Il 16 e 17 ottobre all'ex Forobuario di Chieti torna il Salone dello Studente, la più importante iniziativa in Abruzzo per le scelte post-diploma. In un paese dove il 36% di studenti abbandona già il primo anno di università, l'orientamento alle scelte post-diploma è fondamentale per aiutare i giovani a scegliere veramente bene cosa fare in futuro. E vuole rispondere a questa esigenza, proprio l'evento presentato questa mattina con oltre 50 stand di università e accademia di tutta Italia e 24 fra seminari e workshop. Salone dello Studente è l'occasione fondamentale per i ragazzi per conoscere e avere il quadro di quali sono le loro opportunità una volta terminate le scuole medie e superiori. Questo è molto importante, noi in Italia purtroppo abbiamo una forte dispersione scolastica che vuol dire che molti ragazzi magari si iscrivono a una facoltà e poi l'abbandonano. Abbiamo un bassissimo numero di laureati se lo compariamo a quello che c'è nel resto d'Europa, quindi è estremamente importante aiutare i ragazzi in questo percorso. Hanno la possibilità di conoscere gli ITS che sono questi istituti di formazione superiore, si tratta di scuole di livello universitario che uniscono l'istruzione con il lavoro e hanno la possibilità di incontrare le scuole di alta formazione. Torna il Salone dello Studente al Foro Boario della Camera di Commercio di Chiedi Pescara, un appuntamento fortemente voluto dalla Camera di Commercio. Assolutamente sì, è il terzo anno che ospitiamo il Salone dello Studente e lo facciamo con grande piacere perché ci consente di trattare una delle tematiche di maggior interesse della Camera di Commercio, che è quella dell'orientamento al lavoro e alle professioni. La Camera è molto attiva da anni su questo aspetto e sicuramente si pone come elemento di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro.